Ammesso o non ammesso è il dubbio ammettico Un altro anno è andato e non pensare al prossimo Nella tua classe in aula 3 Mettiti comodo I formatori che con te fanno gli psicologi Nascondi il cellulare che si arriva ai chiorri Oltre il colore cosa c'è? Grafiche facili Loghi difficili Ah 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 Cercasi Cercasi Idee per progettare Sperasi Sperasi Comunque vada io c'andrei E un grafico sale Lezioni sul formato Nessuno che ha studiato Qualcuno ha suggerito il copiato La classe grida Stampa La ricreazione avanza A CFP del Pio Il grafico son io Il grafico son io E dopo un anno a balla Ora l'estate vada Piovono insufficiente sui registri internet Mettiti in salvo Mettiti in salvo dai recuperi e dai debiti L'iPad che porti qui con te L'iPad che porti qui con te Non costa poco Mettiti in salvo da stampa La ricreazione avanza Con tutti i formatori Adesso stiamo fuori Adesso stiamo fuori E dopo un anno d'ansia Pensiamo alle vacanze La campanella suona già E di creazione Si prende il pallone E scatta il partitone Rambisti e confusione La E c'è A E Lezioni sul formato Nessuno qui ha studiato Qualcuno ha suggerito e copiato La classe grida La stampa La ricreazione avanza Un anno è andato in fretta E il prossimo ci aspetta E il prossimo ci aspetta E intanto ovunque siate A tutti buone sale E il prossimo ci aspetta Grazie a tutti.